Ce ne sono tanti, e ce ne sono veramente tanti, e ce ne sono veramente tanti, e sono tutti quanti? 300, la prima del Messia, 300, e già le prove, 14 mila anni fa, e questo lo so, 300, che ha scritto, che ha dato, un'idea, di pace e giustizia, di amore, per una soluzione, per spingere ogni male, e dare un senso all'esistenza, ma molto di più, ma molto di più, per questo, già si sapeva, camminare, nel senso, orario, per prendere, l'energia giusta, e per questo, tramandato, non l'ho cercato, è stato un caso, di un altro, per scelto, Mentre più recente, nel grande Sankara, mentre più recente, prima ancora, c'è Gavara, mentre è un altro ancora, che si prega ancora in chiesa, precento, che ti aveva detto, e ogni tanto sai, succede, ora chissà quanti, sono così, in tanti, come anche, già lo sapevo, di non essere, solo, perché dentro, il cuore, di ogni persona, che chiede, che cerca, presento, che ho tanto pregato, per questo, a teci, ti amo, aiutami, nella mia vita, per quello, che desidero, che voglio, difendere, Tutto quello che ho, il mio pianeta, nell'acqua che cade, ogni forma di vita, presento per questo massimo rispetto a tutti quanti quelli che vanno a cercare dentro i festival, io lo so che siete in tanti come anche, anche se voi imparate per poter ascoltare sul palco qualcuno che dica qualcosa che tu vuoi, presetto, lui non è.